Grazie. 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 ma mi piace in più perché c'è una giusta a parte il soggetto che dovrà spiegare eccetera eccetera mi piacciono gli appostamenti con la migliora che è da fare però io non la chiamiamo un ghiere ma non ci sono un po' di giriere, c'è cosa si è nascita cioè c'è chi ha continuato tutta l'Italia già non è stata la mostra non sapevo di qui ma questo è un ambiente moderno no, tutte le cose di pittura nelle nuove luci non si era più ma è venuto più sempre ad esempio non ti è per te, veniamo a te, veniamo a te, veniamo a te veniamo a te, veniamo a te, veniamo a te veniamo a te, veniamo a me, veniamo a te veniamo a te, veniamo a te grazie grazie